Un saluto a tutti e benvenuto. Finalmente anche l'Italia in Costante Liga a sua pre-vindagine. Visiteremo un luogo in cui si verificano molti eventi e fenomeni paranormali. Restate con noi. Un saluto a tutti e benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti. Un saluto a tutti. 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 qualche corrente, qualche quadro, forse c'è un penino te, dove c'è il visore di solito ci sono capi, ma niente c'è, qui dove c'è la lecina. Abbiamo pulato che dovrebbe essere lo schermo della videocamera. Abbiamo anche il punto zero, per cui abbiamo la lettura base punto zero, punto uno. Se c'è qualcuno può fare accendere una lucina decolorata o fare alzare il valore dello strumento nero? No. 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 No.